Buonasera, benvenuti a Trieste in diretta. In questa prima parte del nostro programma ci incontriamo con la signora Susanna Rigutti, una persona che come tante, giunte diciamo così alle soglie dei 40-45 anni, a un certo punto si è trovata a dover ripensare la propria vita dal punto di vista lavorativo e quindi di conseguenza anche in tutti gli altri aspetti perché la sua attività artigianale, che mi diceva era un'attività di costruzione, riparazione di paralumi quindi oggetti molto particolari, con la crisi del mercato non ha trovato più grandi ritorni di natura economica e quindi ha dovuto pensare adesso cosa faccio. Sentiamo spesso nelle cronache che succede a tante persone anche dipendenti di aziende che a causa magari di ristrutturazioni aziendali perdono il posto di lavoro e devono ripensare la propria vita, specialmente se poi hanno alle spalle una famiglia dei figli da mantenere. Quindi lei, signora Rigutti, buonasera. Buonasera, ben arrivata a delle quattro. Come ha pensato di rinnovare la propria vita, la propria quotidianità? Diciamo che ho chiuso il mio laboratorio e io non ho più trovato ovviamente un accesso al mercato del lavoro e quindi ho deciso di fare quello che ho sempre voluto fare fin da quando ero ragazzina quindi ho trovato un piccolissimo pezzo di terra, parliamo di un appezzamento sul garso di 500 metri e mi sono fatta tutti i miei corsi serali di agronomia, olivocultura, cose di questo genere e mi sono posta a questa sfida, piuttosto che stare a casa davanti alla televisione o a cospargermi di cenere, mi sono messa in discussione e ho cominciato questa avventura. Certo, peraltro senza avere a monte, alle spalle, un'esperienza legata in qualche modo alla terra perché leggo così sulla sua bella biografia che da giovane ha lavorato in uno studio legale poi in atelier di arredamento, quindi attività totalmente lontane. Sì, ricordi di infanzia, di nonne, cugini, con terreni, cose di questo genere ma esperienze proprie con la terra, no. Certo, inquadriamo un attimino l'attività, cioè io vengo a trovarla nel suo podere cosa mi trovo davanti, che tipo di animali, che tipo anche di coltivazioni se ci sono? Ma allora diciamo che la mia non è un'attività commerciale e quindi già questo limita se uno vuol venirmi a trovare, viene a trovare me, non trova un'azienda, no. Trova il mio terreno, che a questo punto è 1500 metri, dove io ho salvato degli animali come oche, anatre, conigli, galline, caprette, da una fine commestibile, diciamo e li tengo, li allevo quando qualcuno ha questi animali a cui è affezionato e magari per appunto motivi che non possono più tenerli, li portano da me e sanno che vivono felici e contenti, finché natura non decida per loro. Per cui dico, sì, quando uno viene a trovarmi, trova fondamentalmente questi animali che io non posso neanche dire allevo, con i quali convivo e con i quali le persone possono interagire, no. Per me è già una bella cosa vedere una persona che prende in braccio una gallina e si rende conto di quello che mangia, no, fondamentalmente. O riesce ad accarezzare un'oca o un'anatra o i coniglietti, indifferente. Quello che noi vediamo come cibo da me invece è come fosse un animale d'affezione. Chiaro, però a meno le uova prodotte da me. Sì, beh, ovvio, ovvio. Uova da quelle minuscole di quaglia a quelle grandi, docca, sicuramente. Certo, per sempre il consumo domestico, non c'è una vendita... Ma è una vendita molto limitata ad amici. Lei si considera vegana, vegetariana o onnivora, comunque, e sempre? Io ero onnivora fino a quando non ho incominciato questa esperienza. Adesso sono diventata, sono vegetariana da un anno e mezzo. Però, insomma, io non dico che nessun c'è, io non impongo le mie idee, nessuno, assolutamente. Era per capire se non vi viene mai la tentazione. Non mi viene più, io ero una da griglia ogni sera. Però, vivendo a contatto con questi animali, mi è passata totalmente. Certo, quindi un discorso quasi etico più che... No, fondamentalmente etico. Sì, 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 io sono convintissima che noi siamo onnivori. Però possiamo scegliere. Possiamo, però abbiamo la scelta. E la scelta è una scelta etica. In questo caso è una scelta etica, non è una scelta salutista o altro. È una scelta etica. Io non ce la faccio, gli altri facciano come credono. Certo. La curiosità, forse così, è un po' marginale. Ho un animale a casa che per X motivi non riesco più ad acudire. Vengo a ricoverarlo da lei. Queste persone in qualche maniera poi continuano a contribuire al suo mantenimento, perché comunque mangime costa. Non credo che nei suoi 1.500 metri quadrati ci sia tutto quello che serve per nutrire. No, no, tantissimi animali. Ma è chiaro che chi mi porta ad esempio un'anatra che ritiene un animale d'affezione, è ovvio che alla fine viene a trovarla. Cioè, è così. E quindi continua a portare. Persone che vengono a trovarla, anche è aperto al pubblico in qualche maniera, c'è bambini, famiglie con bambini, possono venire e passare la domenica? Sì, certamente. Io ho fatto anche, dall'altro anno ho fondato un'associazione culturale che si chiama Il mondo di Susanna Natura e Cultura. E in questa parte del campo che è restata Bosco, facciamo delle attività, presentiamo libri, facciamo concerti, facciamo dei picnic, delle gare di dolci. Tutte cose, tutte attività però prevalentemente all'aperto, di aggregazione, quando le persone possono venire e conoscere gli animali, passare una giornata. Però, diciamo, si devono aspettare un campo, non un'azienda, un agriturismo. Cioè, non c'è il bagno, non c'è la luce, noi facciamo le attività, l'uomo di candela. E quindi non è una cosa per talmente economica. Quello che, ecco, uno che si aspetta, vado in azienda, in agriturismo, mi porteranno da mangiare? No. Viene e fa un picnic con noi, ognuno porta qualcosa, condividiamo. E, non so, abbiamo fatto anche presentazioni di aziende a chilometro zero. Per cui presentiamo prodotti, cose del territorio, tutte cose legate alla natura, all'amore per la natura. Certo, con un approccio, assolutamente, diciamo così, senza nessuna mediazione di strutture. No, nulla, nulla. Assolutamente nulla. Ma così deve restare, cioè, questa è la mia filosofia, no? Cioè, è una cosa un po' diversa dall'andare in un posto dove ci si aspetta cibo, musica. Noi uniamo un po', appunto, il contatto con la natura con la conoscenza e la cultura dell'ambiente. Quindi è una sorta di, potremmo chiamarla, petteria, piante litterame in qualche maniera. No, anche sì, sì. Io spero che sia questo, alla fine, no? Perché, ad esempio, abbiamo fatto, questa è stata, due concerti, uno di musica rinascimentale, una cosa bellissima, la sera, con le candele. Cioè, sono cose che si devono vivere, secondo me, vissute in natura e non in un teatro, in un altro contesto, hanno un altro, prendono un altro significato. Certo, quindi le persone che vengono magari con i bambini, con i figli, passano una giornata da voi, secondo lei se ne vanno arricchiti in qualche maniera. da questa giornata di contatto non mediato con la natura. Io spero, io spero assolutamente di sì. Cioè, che imparino, cioè, secondo me, già quando viene qualcuno, ma anche adulti, no? E sentono la necessità, non so, veramente di capire la differenza tra un'ana, tra un'oca, una gallina. E poi magari quando fa freddo mi chiamano e mi chiedono come stanno. Cioè, è già un grande passo avanti, secondo me, no? Certo, perché magari qui da noi è una città piccola con il carcio e la natura a portata di mano. Magari in città grandi ci sono bambini più giovani, soprattutto che non hanno neanche mai visto del vivo. Certo, certo. Puoi qualche al di là di un cane, un gatto, un canarino in una gabbia a casa, ma animali che non possono stare, appunto, in città. Sì, ma anche da noi, no? I bambini non sono, non so, ma neanche gli adulti, non sono la differenza tra un'oca maschio, un'oca femmina, un'oca, un'ana. È già più specifico quello, se vogliamo. Sì, però se ritrovano nel piatto, no? Certo. Quindi, secondo me, è già il fatto che capiscano quello che mangiano per rispettarlo, non per non mangiarlo. È già un passo avanti. Certo, certo. Ecco, diciamo, lei artigiana ha fatto questa scelta. Come sono cambiate le sue giornate, i suoi orari? Perché alla fine la bottega artigiana poteva aprirla all'ora più o meno stabilita, ma non succedeva nulla, si arrivava mezz'ora dopo, andava via mezz'ora prima. La giornata scorreva sicuramente su ritmi diversi. Qui invece ti rapporti con la natura e devi stare un po' ai suoi ritmi, non è... Sì, totalmente cambiata, ma diciamo che ormai sono più lì che a casa, insomma. Ma per una scelta è un piacere, non è un obbligo, no? Per me è un piacere stare lì, quindi è chiaro che è difficile il ritmo. Io mi alzo la mattina, recupero il mangiare nei vari negozi che mi mettono via la verdura, il pane, e cose del genere, vado dagli animali, li lascio aperti perché i miei animali stanno... Quando io sono lì sono tutti liberi. Poi la sera, ripeto, c'è l'orto, quel piccolo orto che ho, l'erba cresce, gli alberi pure, le pietre crollano, i muri si rifanno e c'è cosa fare. Certo. Il resto, mi pare che lei sia sposata, aveva famiglia. Il resto della famiglia come ha vissuto questo cambiamento, direi, radicale? Ma penso che per loro sia un incubo. Non collaborano alla gestione dell'appezzamento e degli animali? Non amano questa mia scelta. Ogni tanto, obbligatissimi, si fanno vedere, però, diciamo, questa è una scelta, è una scelta, secondo me, molto pesante, molto... va sentita, no? Non si possono obbligare le persone a sentire quello che non sentono, quindi è inutile forzare, no? Cioè, di che età dei figli parliamo? 20-22. Quindi studiano o si stanno affacciando a mano del lavoro? Sì, hanno altri interessi, altri impegni, non si può imporre questo. No, no, imporre certamente, ma trasmettono una passione, magari... Ma io gliel'ho trasmessa da quando erano piccoli, no? Campeggio, vita naturale, sempre in carso, però poi nell'evoluzione della personalità giocano altri fattori. Certo, poi non segue le sue indole, le sue preferenze. Ma io sono contenta così, questo è... io sono arrivata a un punto in cui sto bene lì da sola, ma c'è chiaro che se ho bisogno fisico, perché certe cose non posso farle, mi fa piacere che ci sia qualcuno vicino, ma altrimenti sto bene così. Certo, quindi un apprezzamento, abbiamo detto, senza energia elettrica, senza... Solo con l'acqua. Ecco, c'è il cellulare con te, ognuno a quello che sta a casa. Sì, perché sono in mezzo al bosco, insomma, e poi c'è anche un bellissimo cane che... Comunque può servire in caso di... Serve, serve, serve. Ci sono cinghiali in quella zona? Hai avuto problemi? Intanto per tutta un tema così... Allora, cinghiali ci sono e io sono fortunata. Non vengono da me. Ah, ok, proprio non molesta, diciamo molesta, per l'amore di Dio, non è che l'animale molesta. Però magari il cinghiale è un animale un po' invadente, specialmente il safari. Molto invadente, ha fatto danni tremendi in vigne, in orti. Però, non lo so, io poi ho un vicinto fatiscente, quindi una concemaia, come si suol dire, all'aperto. Quindi dovrebbe essere veramente una cosa per loro, una licornia. Certo, certo. E non entrano. Ok, ok. Niente, tornando invece al tuo approccio a questa nuova attività, leggevo sul tuo profilo che non è che ti sei andata allo sbaraglio, ma ti sei prima documentata, hai fatto dei corsi per capire un po' il funzionamento. Continua ancora questa attività di approfondimento? Non ce la faccio. Adesso è tutto sul campo. È tutto sul campo, anche perché io ho deciso di non utilizzare nulla. Quindi quello che cresce, cresce in maniera naturale. Non uso nessun tipo di insetticida, di concime. Tutto quello che, i concimi miei sono dati dai miei animali, ovviamente, mi faccio da sola compost. E assolutamente non uso nessun tipo di insetticida, cose di questo genere. Quindi cresce quello che deve crescere, muore quello che deve morire. Certo. Comunque, i risultati di queste piccole coltivazioni sono comunque soddisfacenti. Cioè, puoi capire dal vivo che in realtà gli anticriptogramici, gli antiparassitari che usano le grandi aziende che coltivano, forse così li usano, ma in maniera un po' spregiudicata in realtà non servirebbero? O se tu dovessi fare una commercia di quello che coltivi, dovresti essere obbligata ad utilizzare? Ma io penso di sì. Cioè, io ho pochissimo coltivazione, coltivo pochissima cosa, quello che serve a me. Ma non, cioè, dovendo entrare su un mercato, non potrei permettermi questo tipo di scelta, no? Perché sarebbe il mio reddito, la mia sopravvivenza, e quindi quei pomodori dovrebbero essere comunque trattati, le zucchine pure. Invece il mio piacere sono poche, però sono naturali, io lavoro e me le mangio. E non c'è niente di più bello di star là e mangiarsi la ciliegia senza doverla lavare, il pomodoro ciliegino preso così. Affidandoti solo all'acqua piovana alla fine. Certo, certo. Quindi agricoltura biologica potremmo definirla al 100% senza l'uso di alcuni tipi. Sì, è quello che muore, muore. Certo, quindi è una passività che si crea, incontrollabile, e comunque, per evitarla, non ritieni di usare strumenti chimici. No, cioè, non c'è senso, no? Potrei, certo, se dovessi fare commercio di tutto questo, dovrei per forza utilizzarlo. Io non credo che si possa fare un commercio di un prodotto veramente pulito. Quindi anche quello che viene spacciato per l'agricoltura biologica, hai i tuoi dubbi che sia... No, comunque in agricoltura biologica sono permessi certi trattamenti, no? Non è esente da tutto. Ha dei limiti e dell'inquadratura, no? Io non uso assolutamente niente e mangio quello che cresce, però ecco, non posso sicuramente pensare... Sì, 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 e posso assicurare che è tutto altro. Tutto un altro gusto, certo. Ho visto che poi, accumulando esperienza, a un certo punto hai deciso anche di iniziare a scrivere. E raccontare questa tua avventura, ormai che poi è diventata questa tua nuova vita. Perché forse all'inizio era un po' un'avventura di dire, ma ci provo, adesso invece possiamo dire... Adesso sono dipendente. Dipendente dalla natura... Sì, sì, ma sono dipendente. Ecco, il mondo di Susanna, sono due volumi, un primo volume ha come sottotitolo racconti del campo e di altri animali, mentre il secondo racconti e pensieri di un'avventura che continua. Cosa ti ha spinto a fissare sulla carta, cercare di condividere con altri perché altri facciano questa tua scelta, o è solo il piacere di raccontare una tua esperienza che stai vivendo con grande entusiasmo? Ma diciamo che a me è sempre piaciuto scrivere, e quindi però per poter scrivere, secondo me bisogna sentire, no? Quello che si scrive. Ed è stata l'occasione giusta. Quando io ho preso il terreno, passavo veramente il primo periodo tantissime ore in campo, cioè tutto il giorno. E la sera tornavo e ho fatto un blog e scrivevo tutti i racconti di questi animali che mi arrivavano, delle fatiche di tirare sui muri, di pulire il campo e delle emozioni che avevo. E sono venuti fuori tanti racconti, sfondo ironico fondamentalmente, perché tutte queste storie di questi animaletti, di queste cose così. Scrivevo questo blog, una casa editrice l'ho visto, mi ha proposto di fare il primo libro. E sì, ha. E quindi ho scritto questo libro, poi ci ho preso gusto e ho fatto il secondo. In cui scrivo un po' l'evoluzione di questa cosa, no? Al di là delle storie degli animali, della loro vita, delle cose, però anche la sofferenza, le esperienze, le emozioni che si vivono. In fondo, ecco, una cosa che io ricordo sempre è l'intensità del gelicidio, no? Che in città, non so se ti ricordi un tre anni fa, no? In città si è vissuto in una determinata maniera. Io penso di essere stata l'unica che è andata a piedi in campo, perché avevo gli animali. Certo, forse un 25 marzo di un paio di anni fa. Lo ricordo bene perché il 25 marzo è il mio compleanno. Ah, eccolo là. Ho voluto, e comprivo 50 anni quel giorno. Eccolo là. E ho regalato la città, ho condiviso questo traguardo gelando. Sì, gelando tutti. E anche il Carso ha vissuto questo momento veramente impegnativo, che è stato, cioè penso veramente ero l'unica che è andata in campo, perché avevo gli animali, io il cane. Però ho vissuto un'emozione che non so quanti hanno potuto sentire. Certo. Quando trovi il tempo di scrivere di notte, con la luce elettrica, però a quel punto... Sì, a casa. A casa, lo sai. O anche in campo, a dire la verità. Perché tante volte mi porto dietro il computer, mi metto là e scrivo. Ah, allora sono già due cose tecnologiche in questo campo tutto a natura, il telefonino e il computer. Purtroppo, sì. Beh, il telefonino ce l'ho. Ce l'ho, chiaro. Quei tempi nostri ce l'ho. In questi tempi. Sì. E il computer, ormai non si scrive più a mano. Sì, è vero. Non si scrive più a mano. No, è diventata così una... Non si usa più. E quindi più a tempo. Successo di questi libri di fusione? Tanto per così... Ma, insomma, per essere una che non ha mai scritto, per essere i primi racconti, bene, sono contenta. Sono contenta. E la casa editrice a cui mi sono affidata è quella di un caro amico che... La prima era una casa editrice veneta. E poi ho fatto questa decisione diversa. Sono andata con LadyTrag, che è di un mio caro amico. Tra l'altro, mio compagno di avventura nell'associazione. Per cui abbiamo una diffusione abbastanza ristretta. Locale, regionale, diciamo. Però ho visto che ha avuto molto riscontro. Cioè, quando faccio le presentazioni, comunque nelle librerie, va. Certo, quindi il ricavato della vendita lo usi, immagino, per mantenere l'attività. Sì, sì, sì. Quello che rientra va tutto nel mondo di Susanna. Nel mondo di Susanna. Ok. Parlavi di un'associazione che è nata... È nata l'altro anno. Quindi recente. Sede presso il campo o altre resti in città? Eh no, sede sempre a Prosecco. Presso casa mia ho ritagliato una piccola stanza dove facciamo le cose, gli incontri, casomai durante l'inverno. Per il resto tutto in campo. E abbiamo avuto la fortuna che tutte le cose che abbiamo organizzato ci è sempre stato il sole. Sì, anche l'altro anno, con quella pioggia, con quel tempaccio mai visto, noi ogni volta che abbiamo organizzato un evento c'è la sole. Bene. L'evento, c'è diciamo l'associazione, c'ha un suo sito internet, c'è come diffondete la conoscenza? E c'è una pagina Facebook, il mondo di Susanna, natura e cultura. E poi quando facciamo degli eventi, mettiamo anche su piccolo, di solito ci mettono sull'area della città, ogni tanto ci fanno qualche articolo. E poi ci sono gli associati, quindi via mail, avvisiamo a secondo di che cosa organizziamo in quel periodo. Certo, quante persone si sono iscritte e quali modalità sono per uno che ci sta ascoltando che volesse aderire e fare questa esperienza di incontro diretto con la natura e con gli animali? Basta che mi contatti, insomma, Susanna Rigutti si trova su Facebook, o se no, susannarigutti.it, che è la mia mail. E l'associazione è aperta a tutti, ovviamente, le attività che noi facciamo appunto sono prevalentemente in campo. Questo inverno, ad esempio, durante l'inverno non si può stare in campo e comunque io non chiedo mai a chi viene né di zappare, né di coltivare, né di pulire. Uno viene per godere del momento che può permettersi di stare in natura. Durante l'inverno, l'altro anno invece, abbiamo organizzato due cose molto belle. Uno è un concorso letterario, un racconto breve, che si intitolava Io sono un animale, un racconto ironico, e concorsi fotografici, sempre però con argomento natura. Quindi anche durante l'inverno, se non siamo in campo, cerchiamo comunque di stimolare la sensibilità verso questi argomenti. Certo, hai detto, noi non chiediamo a nessuno di coloro che vengono a trovarci di zappare, di farlo. C'è qualcuno che invece si offre spontaneamente? C'è così un coinvolgimento? Diciamo che tante persone sanno che io adoro gli animali, quindi mi aiutano in questo caso, perché comunque se devo andarli a comprare, ovviamente costano anche quelle. Adesso vedo esempio dei cari amici, mi hanno regalato le quagliette. Insomma, in questo caso qui, ma le persone non hanno il tempo, non hanno il tempo di dedicarsi a questo, possono godere di questo, ma è difficile. E soprattutto sì, ho avuto persone che sono passate così come meteore, no? Passano un mese, sembra che non vivranno mai più senza il mondo di Susanna e poi spariscono. Ecco, modalità per aderire all'associazione? C'è un tesseramento, sì, un tesseramento di 10 euro, insomma, simbolico più che altro, e nessun altro tipo di impegno. Quindi sempre comunque soldini che vengono spesi? Certo, rientrano in associazione, chiaro, per il campo, più associati abbiamo, più entrate abbiamo, più si riesce anche a rendere il campo fluibile, no? Certo, un'ultimissima cosa, perché siamo in chiusura, ti sei messa a scrivere, ti piace anche leggere, quindi. Eh sì. Hai dei, così, nel settore poi specifico del quale ti stai occupando, quindi l'agricoltura, l'agricoltura biologica, hai dei testi che possiamo anche segnalare magari a chi ci ascolta, se volesse approfondire questo tipo di argomento, e di capire come si è sviluppata anche negli anni l'agricoltura e l'allevamento di animali in maniera così biologica, non invasiva, potremmo definire. Ma diciamo che è un po' difficile questa, questa, ci sono 50.000 testi di tutti i tipi, ognuno scrive, io ho letto di tutto e di più su queste cose. Quello che a me invece piace segnalare sono le esperienze, un po' delle persone con la natura, no? Quindi ad esempio a me è piaciuto molto Davis Bonanni, che non so se è conosciuto, ma penso proprio di sì, perché ha fatto una bellissima esperienza. Analoga? In Friuli, no, lui è molto più tosto di me, quindi, e poi aveva anche, quando è incominciato era anche molto giovane, però anche lui si è confrontato in maniera importante con la natura e continua questa esperienza, questa esperienza importante. E poi, insomma, storie di vita, io leggo molto cose, cioè storie di persone che fanno scelte così, no? Un po' alternative. Un po' radicali, potremmo anche definirle, ma comunque... Ma la mia non è eccessivamente radicale, già il fatto che io sia qui vuol dire che non è così radicale, no? No, cioè dovevano essere venuta vestita con, penso, di pelle di bosco e con la clava, ok? Sono d'accordo. Ok. C'è chi lo fa, c'è chi fa scelte così radicali. La mia è già il fatto che io abbia mescolato, secondo me, natura e cultura, implica che un po' sta in una via, una via di mezzo. Una via di mezzo, certo. Bene, allora, noi ringraziamo Susanna Rigutti per essere stata con noi, per averci raccontato questa sua bella esperienza, contatto con la natura e gli animali. Le facciamo ovviamente i migliori auguri per il proseguimento. Magari verremo anche a trovarla un giorno per vedere dal vivo, anche raccontare con le nostre telecamere quello che lei fa, quello che ha costruito nel suo terreno di Prosecco. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario e torniamo fra poco. Restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Telequattro e diamo il benvenuto al dottor Izko Spetic, psicologo, psicoterapeuta. L'abbiamo già conosciuto qualche settimana fa, in quanto era già ospite di Trieste in diretta e con lui abbiamo iniziato un discorso che riguarda appunto il divorzio breve. L'altra volta ne abbiamo parlato, se non ricordo male, in linee generali. Abbiamo inquadrato un po' anche dal punto di vista non solo clinico, psichiatrico, psicologico, ma anche dal punto di vista normativo, cos'è il divorzio breve, quando è stato inserito in Italia, che è una cosa appunto recente di quest'anno, con la legge 55 del 2015. e abbiamo iniziato a esaminare le ricadute, ma anche la preparazione che attraverso le sue competenze, uomini, donne, coppie, che purtroppo intraprendono un percorso di divisione e di separazione, possono avere il supporto che possono avere da lei. Ci eravamo affermati l'altra volta, se non ricordo male, avevamo accennato a coloro che forse sono le vittime, fra virgolette, più frequenti di una separazione, cioè i bambini. Quali sono le situazioni più comuni, se si può parlare di situazioni comuni, in cui lei si trova a dover interagire e a intervenire come consulente? Io direi così, se poi si può partire appunto un discorso incentrato più su appunto, come si diceva, sui bambini, quelli che poi vivono un percorso di divorzio, che poi tra l'altro non andiamo a parlare direttamente del divorzio breve, perché in fin di conti se ci sono minorenni non è applicabile. Non è applicabile, però comunque penso sia molto importante parlare di questo, perché appunto spesso i protagonisti sono la coppia che si sta separando, sta divorziando, ma in verità poi sono i bambini quelli che vivono, anche a volte purtroppo in una maniera molto passiva, tutto il fatto, tutto il cambiamento. Come ho spiegato l'ultima volta, comunque il divorzio e la separazione, una coppia, è vissuta da un punto di vista psicologico, come abbiamo detto, come simile a un lutto. E in questo senso simile anche per i bambini. Nel senso non è logicamente un lutto da una figura dei genitori, però un lutto simbolico già della famiglia che si aveva in mente, della famiglia ideale. Per un bambino che vede i genitori separarsi, un primo shock, già dato del fatto, come succede per tutti i bambini, è il fatto di scindere un po' le due figure genitoriali, nel senso che quando si chiede a un bambino di qualunque famiglia, gli si chiede la solita domanda, ma chi vuoi più bene, mamma o papà? Logicamente il bambino lo mettiamo in crisi. Quando succede una separazione c'è questa scissione e logicamente la prima cosa che io ho notato, perché poi durante la terapia, specialmente il mio indirizzo, che è la psicoterapia della Gestalt, si parla molto e si lavora molto sulle emozioni. Le emozioni che sono quelle principali che di fatto vivano i bambini, i genitori si stanno separando, all'inizio c'è, come succede in tutti i casi, in tutte le persone, c'è un po' una difesa psicologica e perciò il bambino per un lungo periodo ancora crede e spera in un rinconciungimento. Il fatto che nella fantasia spera che in modi a volte anche magici, perché i bambini usano la fantasia e la magia e credono che sia la realtà, pensano che appunto o comportandosi bene o a volte comportandosi male comunque riusciranno a combinare qualcosa che farà ritornare i genitori. Perciò già da questo punto di vista bisogna accettare il fatto che il bambino all'inizio gli serve un po' di tempo per capire e accettare che anche in modo doloroso che è una scelta che non si va indietro, diciamo, questa del divorzio. Devo dire che questo a volte capita, a me è copertato con un ragazzino che aveva intorno ai 11 anni venuto da me e dopo già due anni che i suoi genitori erano separati, perciò anche su questo discorso, sulla brevità, magari il divorzio breve, a volte i tempi comunque sono soggettivi e finché uno non li lavora, non li vive, poi possono continuare per un lungo periodo. Per questo ragazzino, per esempio, dopo due anni, parlando con me, che logicamente aveva problemi a scuola e altre cose, ha cominciato a piangere, quando mi ha chiesto a me, mi ha chiesto, ma mamma e papà torneranno insieme? E lui ha spiegato che in questo momento è impossibile, che ormai hanno già intrapreso da diverso tempo. E lui quella volta è accettato, infatti poi ha pianto, ha pianto per mezz'ora, però finalmente, diciamo, ha elaborato questo mini lutto, iniziale di una perdita di una famiglia. E poi ci sono altre emozioni molto caratteristiche che logicamente poi vengono, che sono specifiche anche per il lutto, ovvero per ogni perdita. All'inizio c'è la rabbia, il bambino è arrabbiato, è arrabbiato con i genitori, è arrabbiato con quel mondo, con il destino, con un po' tutto. E questa rabbia poi si tramuta pian pianino, si tramuta in tristezza, in tristezza e disperazione. Questo, diciamo, è il percorso tipico, appunto, di un'elaborazione del lutto. E come terapeuta cerchi, appunto, di accompagnarlo in queste emozioni. Spesso per i bambini, e questo posso suggerire anche ai genitori, è molto importante intanto cogliere i segnali che manda un bambino. E poi la cosa più semplice anche da fare, specialmente per i genitori, semplice, non è semplice in pratica, però è semplice nel pensarle, è già il fatto di parlare di queste cose, di parlare di emozioni. Perché spesso, purtroppo, nella famiglia non si parla di emozioni, specialmente quando c'è una crisi, non se ne parla. Certo. Ma spesso si pensa che per non coinvolgere i bambini, specialmente i più piccoli, sia sufficiente che i due genitori che stanno intraprendendo un percorso di separazione, ma vivono ancora assieme, non facciano che so baruffano, discutano davanti a loro. In realtà mi pare di capire che non è così, che proprio il bambino ha una sensazione di diversità, di cambiamento nell'area, a prescindere dall'atteggiamento che possono avere i genitori che magari fingono di essere sempre gli stessi, di non alterare quello che è l'ambiente familiare che fino a quel momento si viveva. No, esatto. Dobbiamo pensare, intanto dobbiamo pensare ai bambini come a persone che, tra l'altro adesso, ogni anno, ogni decennio sono più intelligenti e sono più svegli per determinate cose. Però dobbiamo pensare un po' al bambino come una persona che, diciamo, ha intrapreso il percorso, se lo possiamo chiamare razionale e logico, da meno tempo degli adulti. Nel senso, il bambino, quando nasce, finché non comincia a parlare, capisce, interagisce col mondo, specialmente con le figure genitoriali, attraverso le sensazioni. Queste modalità di interazione rimane il bambino, poi pian pianino va sfumandosi e con l'adulto un po' si perde, poi si può riconquistare, diciamo, queste abilità. Perciò il bambino, a pelle, se si può dire, anche se non è un termine tecnico, riesce a percepire quando c'è nervosismo, quando c'è qualcosa che non va. E cosa succede? Come si è detto prima, il bambino usa la fantasia. Se il bambino non sa esattamente cosa sta succedendo, quello che capita è che, di solito, le fantasie non sono mai ottimistiche, ma sono catastrofiche. E magari si immagina cose ancora peggiori di quelle che sono in realtà. Perciò, anche in questo senso, essere chiari col bambino è molto più efficace, è molto più giusto che magari nascondere. Sarà doloroso, però sicuramente, parlando e interagendo, si riesce anche a condividere dei stati d'animo, delle emozioni, che logicamente il bambino da solo non ce le fa a condividere. E perciò riesce a sfogare anche se è triste, essere arrabbiato, comunque riesce a indirizzare, a capire queste emozioni. Perciò è molto fondamentale parlare, essere chiari e sinceri. Certo, perché poi la percezione appunto c'è. Io mi ricordo il caso abbastanza recente del bambino, di una coppia di amici, bambino di 4-5 anni, andava all'asilo, quindi si è già sull'età lì, che appunto i genitori hanno scelto di separare, gliel'hanno in qualche maniera spiegato. però a scuola, all'asilo, quando gli hanno chiesto di disegnare la sua famiglia, magari pensando da come a un albero, con i rami, con la mamma e il papà, lui cosa ha fatto? Ha disegnato due alberi. Da su uno, la mamma, con i nonni materni, le cuginette, il fratello, eccetera. Dall'altra, la famiglia del padre, e in mezzo, un alberello piccolo, lui. Quindi, così, era ben chiara, e secondo me, questa immagine dava proprio il senso del dolore e anche del disorientamento che questo bambino vive davanti a quando i due pilastri, diciamo, che sono i genitori, prendono strade separate. Ma in questo senso, visto che parliamo appunto anche di divorzio breve, lei diceva se ci sono dei minori, il divorzio breve non è applicabile. Ma forse non sarebbe meglio, specialmente in quei casi dove per motivi soprattutto economici i genitori sono costretti a fare i separati in casa, non sarebbe forse meglio ridurre al minimo i tempi successivi per arrivare al divorzio e quindi una vera e propria separazione anche fisica in maniera che il bambino venga assegnato poi o l'uno o l'altro o a entrambi con l'affidio condiviso con le famose giornate che il giudice stabilisce tre giorni tu, tre giorni lui, eccetera. Non sarebbe forse meglio ridurre anche nei casi di coppie con figli minori i tempi per arrivare alla separazione proprio a tutela della psicologia del bambino? Io sono del parere ma questo è un mio parere personale che sicuramente sarebbe meglio ridurre i tempi anche per i figli minori. Sicuramente ci dovrebbe essere un affiancamento anche per legge di figure professionali appunto di psicologi mediatori che riescono a aiutare la famiglia perché poi non è il discorso di tempo si può stare anche dieci anni separati in casa il tempo può essere molto lungo però il fatto è in questo tempo cosa si è fatto? Se si aiuta il bambino e anche la coppia che si sta divorziando di fare un percorso logicamente si stimola si aiuta tutto il sistema familiare che poi andrà ci sarà un vissuto sicuramente migliore del fatto invece di aspettare per anni magari in attesa di un qualcosa che succederà però nel frattempo è una cosa che come dire non è né 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 bianco né nero non si capisce bene questo fa sicuramente star male lei diceva che ci vorrebbe stabilire sancire per legge che figure come la sua psicologo dell'età infantile eccetera o mediatori familiari intervengano in queste situazioni mentre adesso di solito da quello che leggiamo è il giudice che magari ordina solo in casi estremi in cui ci sono situazioni di emarginazione di violenza eccetera l'intervento di figure professionali esterne secondo lei sarebbe utile che invece tutte le coppie che vanno a separarsi possano fruire di questo tipo di assistenza di supporto io credo di sì anche partendo dal fatto che dobbiamo pensare che se già pensando solo al matrimonio come si ci si sposa e così di solito c'è una preparazione logicamente c'è una motivazione è un momento molto bello però di fatto la celebrazione poi prevede anche un percorso che va fino al viaggio di nozze prima c'è la festa si è contornati da amici da parenti è una cosa che è comunque un legame sociale una rete sociale che ci aiuta a affrontare anche una cosa così importante d'altro lato quando si finisce il matrimonio tutto questo non c'è adesso non voglio dire logicamente si spera molte volte ci sono magari i parenti o amici che aiutano sia uno che l'altro lo supportano e quello è un aiuto indiscutibile è molto importante però dall'altro lato ci deve essere anche una forma come c'è all'inizio appunto con il matrimonio che c'è una celebrazione ci dovrebbe essere un percorso anche per il divorzio non è non è abbastanza solo il lato legale appunto come si diceva che se ci si mette d'accordo su logicamente i giorni in cui il bambino e i bambini andranno da uno o dall'altro genitore queste cose qua questo è il lato formale però tutto tutto il resto va a mancare proprio su questo anche direi che poi da una certa età in poi penso dai 12 anni già il minore può suggerire anche chiedere a chi venire affidato e così una cosa che ho spesso notato che purtroppo anche quando si decide sui giorni e sulla modalità logicamente sono i genitori che decidono per i propri interessi però non pensando di fatto ai figli mi è capitato a volte di avere ragazzini che mi spiegavano il sistema di come sono gestiti i giorni i divisi giorni e devo dire io per parecchi giorni ci ho dovuto pensare per capire la logica che ci stava dietro perché non c'era una logica diciamo pratica per i bambini era una cosa una logica cioè diciamo è una il calendario viene magari fatto sulle esigenze dei due genitori turni di lavoro impegni di pari a natura eccetera ma non si tiene conto invece di quello che potrebbe essere forse il tempo minimo diciamo così di reazione potremmo chiamarlo del bambino che sta con uno piuttosto che con l'altro e tra l'altro se posso aggiungere proprio su questo il bambino una cosa un'altra cosa che è fondamentale che è un'emozione fondamentale che prova un bambino durante la fase di divorzio ovvero di separazione c'è anche molta paura perché c'è una perdita di sicurezza la perdita di sicurezza deriva anche del fatto che diciamo la routine che si è si è formata in tutti questi anni tutta la sua vita di che ne so proprio gli orari quando andare a mangiare a dormire tornare a scuola dove dormire dove va va a frantumarsi in questo una cosa che possono fare i genitori è stare attenti e cercare di essere comunque coerenti rientrare nella coerenza che c'era prima del divorzio e la coerenza è una cosa che comunque dà subito sicurezza al bambino e lo aiuta a affrontare meglio certo non fa vedere che non è cambiato tutto sì è vero non siamo più in due non c'è più mamma e babà assieme però le regole lo stile di vita le abitudini per quanto possibile devono rimanere invece spesso si sente si legge si vede anche che i bambini di coppie separate tendono a essere molto viziati perché appunto gli si lascia molto più spazio autonomia non c'è la regola di andare a dormire quando ero piccolo io si andavo a dormire dopo carosello adesso invece io vedo figli e figli di miei amici molto piccoli che stanno in piedi fino alle 11 di sera certo e questo magari ha colpa anche la tv sui canali magari dedicati soltanto ai bambini dove hai cartoni animati 24 ore su 24 e il bambino si piazza lì davanti forse anche per comodità dei genitori diciamolo perché spesso è così è così viene piazzato lì e via però invece dovrebbe essere un attimino più indirizzata o più regolata no? sì no perché le regole io non sono per una un'educazione direttiva fatta solo di regole autoritaria però un'educazione fatta di regole io do sempre l'esempio pratico noi adulti per esempio quando guidiamo la macchina ci sentiamo più sicuri magari andando per una strada dove ci sono i semafori che funzionano che magari andando che ne so capita spesso di sera e trovando il semaforo che lampeggia la stessa cosa è per bambini se hanno le regole e sanno quando andare e quando fermarsi si sentono più sicuri se hanno un semaforo che lampeggia e loro provano perché il bambino prova logicamente a prolungare il tempo prima di andare a letto o prolungare quello cerca di manipolare in tutti i modi per ricevere gratificazione in questo senso vive sempre con una luce che lampeggia può essere all'inizio molto piacevole però poi di fatto non saprà quali sono le conseguenze ovvero come stare certo quindi l'errore che fa il genitore separato è quello in qualche maniera di sovrabbondare così in libertà e in accettazione di tutti i capricci del bambino quasi per sfogare un senso di colpa certo no no il fatto e il fondamento è sicuramente nella coppia dei genitori che si sta separando in confronti di bambino vivono un senso di colpa molto grande però proprio per questo poi è importante questo senso di colpa affrontarlo e anche in questo senso elaborarlo logicamente è un processo terapeutico anche in questa fase quindi l'ascolto da parte di uno psicologo e dialogo può aiutare quindi questi genitori sono in percentuale ce ne sono tanti che si rendono conto e si rivolgono a lei o bisogna questa modalità di anche umiltà forse di dire aspetta che vado a sentire da un soggetto terzo professionale che mi dà qualche indirizzo di comportamentale è ancora da costruire quanto diffusa è la sensibilità di dire vado dal dottor spettici piuttosto che da un altro per farmi indirizzare per capire se sto facendo bene o se sto sbagliando qualcosa diciamo così la percentuale non è altissima e di fatto anche quelli che poi scelgono di chiedere aiuto a un specialista di solito sono già a un determinato livello di malessere specialmente di solito si 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 rendono conto che ne so quando il bambino comincia a avere dei problemi sia a scuola o magari problemi comportamentali così e vedono come un problema una deviazione della norma dicono il bambino è cambiato bisogna fare qualcosa sarebbe meglio farlo prima in anticipo che il bambino già subito dall'inizio entri in un percorso terapeutico così che non avvengano queste cose avvengono logicamente quando c'è già un paolo e leucetta che lampeggia che c'è un pericolo lo slogan prevenire meglio che curare assolutamente vale anche in questo campo e in questo settore bene siamo al termine di questo secondo blocco di Trieste in diretta ringraziamo il dottor Isco Spettice per essere stato con noi per averci così illustrato in maniera molto competente tanti aspetti del divorzio della separazione del divorzio abbiamo sentito il divorzio breve non è applicabile ai sensi delle attuali leggi a coppie che hanno bambini e figli minori torneremo più avanti su questo argomento ci rivedremo magari tra qualche settimana per continuare un discorso che purtroppo temo interessi di tante persone e tante coppie grazie restate con noi torniamo dopo un breve break pubblicitario va bene così eccoci nuovamente in diretta per il terzo blocco del nostro appuntamento serale siamo in compagnia e diamo il benvenuto al dottor Giovanni di Masè medico specialista neurologo buonasera e benvenuto buonasera a voi grazie per l'invito allora l'argomento di questo nostro incontro riguarda le malattie degenerative della vecchiaia quelle più comunemente note come demenza senile mi correga se sbaglio e il Parkinson no no giusto le sono le forme sicuramente tra le forme degenerative età dipendenti sono le forme più più comune che hanno un impatto diciamo così sulla popolazione e quindi anche sull'assistenza sanitaria sulla spesa sanitaria più più importante ecco insomma vogliamo inquadrarle dal punto di vista del proprio clinico clinico una parola sul fatto che dal punto di vista epidemiologico senza entrare nei numeri che annoierebbero le persone che ci ascoltano bisogna dire che la colna un aumento della vita media che è il risultato di una vita più sana che noi abbiamo almeno nella parte occidentale del mondo si è assistito appunto un aumento della vita media ma questo come sempre c'è sempre il rovescio della medaglia nella vita come aspetto diciamo così del rovescio della medaglia sono esplose queste forme di queste malattie che sono legate appunto all'invecchiamento cerebrale e che una volta erano meno rappresentate dal punto di vista epidemiologico proprio perché non si raggiungeva lo standard cioè l'età l'aspettativa dell'età di oggi certo il benessere ci ha portato ad allungare però stiamo pagando uno scotto stiamo pagando uno scotto in questo senso sì le malattie più frequenti come dicevamo sono appunto il morbo di Parkinson le malattie degenerative più frequenti sono il morbo di Parkinson e la demenza di Alzheimer due parole sull'aspetto clinico nella prima c'è nel morbo di Parkinson almeno all'inizio sono presenti e prevalgono i disturbi della motricità il soggetto che inizia ad avere il morbo di Parkinson comincia a camminare lentamente c'è questa lentezza del movimento che noi chiamiamo a cinesia poi i muscoli diventano diventano rigidi c'è questa rigidità dei muscoli e c'è anche il fatto che compare un tremore in genere che è un tremore particolare un tremore che compare soprattutto quando l'arto o gli arti sono in riposo non quando si muovono infatti viene chiamato tremore a riposo e poi compare anche più in genere più tardivamente un disturbo molto importante che è il disturbo di diambulazione dovuto al fatto che mancano i riflessi di raddrizzamento e quindi il soggetto tende anche a essere esposto a delle cadute che possono essere anche rovinose però il Parkinson mi pare di ricordare c'era Papa Giovanni Paolo II che mi ha sofferto alla fine non comporta un decadimento delle cellule cerebrali che ti porta alla demenza c'è il truppo per restare lucido fino a per lo meno per lungo periodo in genere la storia naturale del Parkinson allora James Parkinson quando aveva descritto il suo pamphlet della paralisi shaking palsy era la prima descrizione completa del 1700 fino al 1700 del morbo di Parkinson e pensava che e concludeva che accanto e a fronte di un grave disturbo motorio che è quello che più o meno con le caratteristiche che ho descritto prima le facoltà mentali erano restavano integre in realtà lui aveva una sopravvivenza dei Parkinsoniani molto limitata e quindi non poteva osservare quello che adesso noi osserviamo con le terapie mediche che allungano la vita del paziente in maniera significativa e in effetti dopo circa 10-12 anni mediamente anche nel Parkinson compaiono degli aspetti cognitivi degli aspetti di decadimento cognitivo che ma sono legati al Parkinson o sono cioè diciamo il decadimento delle cellule cerebrali abbiamo visto avviene perché in qualche maniera il nostro cervello non riesce a stare al passo con l'allugamento della vita potremmo dire in realtà è sempre dovuto a questa diciamo così causa di base del Parkinson anche di disturbi motori cos'è che non va nel Parkinson il cervello non produce bene questa dopamina anche questo neuromediatorio che gestisce sicuramente in maniera fondamentale il movimento con i suoi vari aspetti nell'essere umano un movimento pensate uno che suona il piano eccetera un movimento molto fine eccetera ma ci sono anche delle evidenze che la dopamina proiettando i suoi neuroni a livello corticale a livello frontale poi ha anche un importante ruolo nell'intelligenza diciamo così e anche nel tono dell'umore tanto è vero che il parkinsoniano spesso è anche depresso c'è una quota di una componente psichica a sfondo depressivo ecco insomma a sfondo depressivo quindi è questo neuromediatore che non va perché non viene più prodotto insufficienza diciamo così dalle nostre da una parte particolare del cervello che si chiama substanzia nigra sostanza nera questa sostanza ha implicazioni non solo quindi nel controllo del movimento e quindi nella produzione di questi disturbi che sono appunto la rigidità la cinesia il tremore e questa instabilità posturale ma anche a livello psichico e a livello cognitivo intellettivo ecco insomma mentre invece venendo a parlare di alzheimer ecco andando ecco invece è proprio la degenerazione cerebrale direi che l'aspetto è speculare mentre nel Parkinson cominciano i disturbi motori e poi si arriverà eventualmente ai disturbi diciamo così con l'andare del tempo come il papo si arriverà ai disturbi cognitivi diciamo così nella malattia di alzheimer è una malattia generativa sempre età correlato ovviamente in cui i primi sintomi sono proprio quelli di un deterioramento cognitivo ora il nostro cervello è come un computer varie parti del cervello si arrogano la possibilità di controllare alcune funzioni cognitive per esempio una parte del cervello che si chiama lobo temporale mesiale ipocampo ha il compito di immagazzinare i ricordi e in effetti il primo sintomo importante nella forma di alzheimer è proprio nelle forme di demenza di alzheimer è proprio il disturbo della memoria ma tranquillizzo gli ascoltatori tranquillizzo anche me perché anche il disturbo della memoria non è sufficiente per determinare il disturbo della memoria sicuramente può essere l'inizio ma un disturbo della memoria selettivo faccio l'esempio quello di non non ti viene in mente il nome dell'amico il cognome eccetera subito come ti veniva in mente da giovane questo fa parte di una evoluzione del cervello benigna dovuta all'età perché in realtà quando invece se assistiamo alla malattia all'evoluzione della malattia al disturbo iniziale di memoria si associano ben presto altri debacle di altri domini come li chiamiamo noi cognitivi di questo computer non solo la parte del computer che codifica per la memoria si rompe ma cominciano a rompersi altri punti l'espressione del linguaggio esatto bravissimo quindi coinvolge entro altri domini cognitivi quali il linguaggio per esempio la possibilità di fare di conto la possibilità di 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 pianificare un compito che potrebbe essere per la massaia quello di 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 programmare la lavatrice per esempio con le varie fane ecco tutto questo porta poi a un certo momento al al fatto che il paziente comincia a non essere più in sintonia con il contesto sociale in cui vive l'orientamento ovviamente ne soffre per cui il soggetto comincia a non sapere bene dove la data e il tempo in cui vive e il luogo soprattutto in cui dove vive eccetera frequente per esempio il fatto di posteggiare la macchina e non ricordarsi più dove l'aveva messa per esempio perché lì ci sono degli input spaziali che evidentemente di codifica spaziale dei luoghi che cominciano ad entrare in crisi insomma allora in questo caso quindi allora per parlare di demenza per concludere non basta il deficit selettivo della memoria ma bisogna che ci siano compromissioni di altri di domini cognitivi allora le due cose insieme possono far la diagnosi ecco di demenza ecco insomma noi parliamo sempre di demenza senile ma così nello spazio terzo e nel tempo qual è l'età media se si può parlare di età media in cui inizia veramente a manifestare l'organizzazione della sanità per definizione definisce l'età senile purtroppo io ho 65 anni dopo i 65 anni cioè i 65 anni sono diciamo lo spartiacque tra la maturità diciamo così e l'età senile ecco insomma questo senz'altro e infatti se noi guardiamo gli studi epidemiologici dell'Alzheimer vediamo che a fronte di una diciamo così di una prevalenza che vuol dire il numero totale di pazienti che in quel luogo presentano il sintomo o la malattia di un 5% si vede che questo 5% se si spalma ogni 5 anni dai 65 anni fino ai 90 anni si vede che ogni 5 anni raddoppia il tasso di prevalenza quindi a testimoniare come l'invecchiamento qua sia molto importante la cosa interessante che è emersa e questo lo dico per i pazienti ultra 90 anni questo impennarsi epidemiologico si acquetta dopo i 90 anni sembrerebbe che se uno riesce a raggiungere i 90 anni poi ha meno possibilità di diventare demente i grandi vecchi i nostri flori grandi vecchi mia madre è una di queste ha 93 anni e ha la testa meglio della mia per dire è un dato alledotico ma c'è questo dato invece epidemiologico proprio negli ultimi studi che dicono che c'è la curva si impenna fino ai 90 anni e poi si stabilizza ecco insomma certo ma diciamo che i fattori esterni che provocherò l'Alzheimer in realtà non ce ne sono cioè non è come io seguo una dieta poco corretta rischio di avere il colesterolo alto rischio di calatia cardiaca eccetera per l'Alzheimer cosa posso fare per cercare di ritardare perché mi pare che sei inesorabile allora diciamo che per quel creale è a causa mentre sul Parkinson tutto sommato abbiamo delle evidenze ormai inconfutabili di questa mancanza di questa dopamina che vi dicevo prima e c'è tanto vero che la terapia poi parleremo anche un attimo della terapia se si avanza tempo delle due forme ma la terapia consiste nel dare dall'esterno quello che il cervello non riesce più a produrre che è questa dopamina ecco mentre nell'Alzheimer in realtà ancora adesso l'eziologia cioè la causa non è ben nota ecco insomma dell'Alzheimer si sa quello che avviene cioè si sa che avvengono delle 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 modificazioni a livello istologico a livello microscopico dei neuroni della corteccia di particolari poi sedi della corteccia dicevo l'ippocampo che è questa zona dei lobi temporali che sono qua per la memoria ci sono delle alterazioni ben precise i neuroni muoiono sono come soffocati da una proteina che si chiama beta-amiloide ma insomma questi sono praticamente sono intasati da questa proteina e muoiono e il perché questa proteina a un certo momento in certi soggetti in tasa non si sa bene molti studi sono rivolti verso la prevenzione di fattori di rischio vascolari che una volta erano rivolti unicamente nel caso in cui uno andava incontro alla demenza vascolare che è una demenza su base circolatoria ma adesso ci sono evidenze strette che nell'Alzheimer che appunto ha una causa degenerativa i fattori vascolari soprattutto il colesterolo per esempio e la pressione arteriosa e quant'altro i fattori di rischio vascolari il diabete per esempio molto importante proteggono il cervello anche non solo dalla demenza vascolare che viene spiegata con piccoli infartini con piccoli ischemia ma anche da questa demenza degenerativa poi c'è effettivamente tutta una serie di cause cosiddette sociali per esempio i studi hanno dimostrato che le persone che hanno una cultura e si sono mantengono sono più resistenti il cervello di persone che ha studiato ha fatto la ginnastica cerebrale mettiamola così cerebrale ma non per loro merito ma perché hanno impreso dei studi hanno fatto una vita in cui il lavoro era più diciamo così intellettuale eccetera hanno più possibilità non che non possono andare incontro ma hanno meno possibilità di andare incontro a questa malattia a questo rispetto a classi diciamo così socialmente con lavori sociali più diciamo così manuali o cose di questo genere qua certo che però va detto che mentre per fare sempre di parallelismi adesso stai bene tra mezz'ora ti arriva l'infarto stai bene ti arriva l'ictus l'alzheimer invece ha un'evoluzione molto lenta non è che poi quindi in qualche maniera progressiva non è l'ictus che è di colpo ma è una cosa che comincia ripeto con disturbi della memoria poi pian pianino evolve nel giro di qualche anno però nel giro di qualche anno compaiono questi disturbi insomma c'è da dire che oltre i disturbi diciamo così intellettivi di cui parlavamo questi famosi domini eccetera purtroppo molto spesso si associano anche dei disturbi comportamentali psichiatrici chiamavoli così mentre nel Parkinson il disturbo psichiatrico più comune vi dicevo è la depressione quindi anche più facile da gestire purtroppo nel paziente affetto da demenza di alzheimer ci sono dei disturbi psichiatrici molto più impegnativi da gestire quali per esempio l'agitazione la violenza l'agitazione psicomotoria con l'insonnia con i deliri allucinazioni eccetera che nel Parkinson effettivamente sono molto più rari ecco insomma quindi i disturbi comportamentali nell'alzheimer che non sono all'inizio ovviamente ma dopo qualche anno possono rappresentare veramente una sfida terapeutica ecco insomma facciamo una digressione sulla ricerca scientifica era stata salutata la scoperta di Rita Levi-Montalcini del fattore di crescita delle cellule nervose che si è sempre ritenuto non fossero capaci di rinnovarsi infatti in teoria la teoria è sempre stata la base della demenza ma di tutte le malattie che legate al cervello in particolare e a tutto il sistema nervoso è il fatto che quelle cellule abbiamo quelle cellule che ci teniamo non si rinnovano come invece succede per altri tessuti del corpo ecco la scoperta del premio Nobel della Montalcini è di qualche anno fa o meno non è che sia di sì i fattori di crescita neuronale e le cellule staminali anche certo volevo arrivare anche alle staminali sono sicuramente linee di ricerca tuttora in atto molto attive tuttora in atto probabilmente sono per queste malattie degenerative saranno la risposta del futuro ma attualmente è bene dirlo alle persone non hanno un'applicazione pratica siamo ancora dei medi di ricerca magari ricordiamo un'altra cosa interessante a mio avviso è la possibilità visto che c'è questa beta-amiloide che si accune parlo dell'Alzheimer adesso la possibilità di instaurare dei vaccini che prevengano tra virgolette il deposito di questa proteina nei neuroni che poi li fa scoppiare morire eccetera questa è un'altra linea che anche questa però non ha ancora degli sbocchi pratici ricordiamo i nostri telespettatori che si sente spesso parlare di cellule staminali che vuol dire cellule non specializzate esatto tutti potenti diciamo così spieghiamo cosa sono esattamente perché sentiamo spesso anche le polemiche la cura con le staminali eccetera ma capire bene cosa sono le staminali possono essere per esempio prese da feti dal feto del cotone ombilicale che hanno o dal midollo osseo che hanno la possibilità di specializzarsi in toti potenti cioè in tutti i tessuti tra cui anche il cervello ovviamente certo però da questo punto di vista non siamo ancora perché adesso è lungo spiegare il motivo perché non è così facile cioè dirlo sembrerebbe l'uovo di Colombo ma in realtà non è così purtroppo ci sono delle barriere abbastanza importanti ecco perché sono ancora in fase di studio e non applicabili nella terapia di ogni giorno nella terapia di ogni giorno noi abbiamo sostanzialmente per quel che riguarda il moro di Parkinson diciamo così la pietra miliare e la somministrazione di levodopa non c'è solo questo dopamina insomma levodopa e dopamina non c'è solo questo ci sono altri prodotti che si possono somministrare però tutti quanti vanno a interferire con la funzione di questo importantissimo neuromediatore che è la levodopa a livello cerebrale che abbiamo visto regole non solo i circuiti motori ma anche i circuiti poi del tono dell'umore psichici eccetera cognitivi eccetera per quel che riguarda l'Alzheimer la terapia è una terapia io dico sempre al momento attuale per dirla parlo dell'Alzheimer conclamato non nelle fasi iniziali allora per quel che riguarda l'Alzheimer conclamato la demenza conclamata il medico deve assolutamente prendere capire che il bersaglio forse principale non è tanto il paziente quanto i caregiver cioè nella visita medica è chiaro che il paziente va visitato e va sentito i disturbi del paziente ma una cosa che viene dimenticata molto spesso è che secondo me la cosa fondamentale è parlare con chi sta vicino al paziente spiegare cosa fare quando il paziente è presente determinati disturbi comportamentali per esempio perché la persona è disarmata di fronte a delle richieste che vengono ritenute dalla logica comune assurde chiaramente allora il parente ti domanda ma io cosa devo fare devo contraddirlo perché è una cosa assurda che mi sta dicendo o devo assecondarlo e il medico deve assolutamente spiegare come fare perché un approccio scorretto tra virgolette ma non per cattiveria ma per ignoranza da parte del caregiver può determinare degli scopi di ira può determinare degli aspetti che vanno gestiti con competenza quindi la terapia c'è c'è una terapia tutta una terapia per rinforzare la memoria soprattutto nelle fasi iniziali si tende molto adesso a diciamo così a concentrarsi giustamente anche paro di terapia medica adesso sulle fasi iniziali quando c'è chiudere la porta prima che della stalla prima che i buoni scappi esattamente e quindi là c'è tutta una serie di farmaci che adesso io non te di erogli all'uditorio insomma c'è tutta una serie di farmaci che servono per diciamo così rinforzare questa funzione della memoria eccetera e che hanno anche un effetto neuroprotettivo poi che è importante per impedire questa morte per apoptosi che questa morte di questi neuroni eccetera e nelle fasi più tardive prevale invece la terapia dei disturbi comportamentali insomma assieme ad una istruzione importantissima del caregiver e la raccomandazione di far socializzare il paziente con demenza di alzheimer si discuteva recentemente sul cambio della società la società la società rurale post bellic italiana diciamo così in cui la famiglia tra virgolette non era ancora non si era ancora frammentata diciamo così come adesso per questioni non di cattiverio ovviamente ma di ragione sociale la donna lavora eccetera beh lì il donno demente io provengo da un paese del Trentino vicino a Madone Campiglio e lì mi ricordo quando ero ragazzo andavamo su e il nonno demente veniva gestito con buonarietà era in cucina ogni tanto diceva le sue stramberie si dava da mangiare tutti quanti erano uniti eccetera c'era questo aspetto sociale che adesso è perso chiaramente l'urbanizzazione e la frammentazione della famiglia ha creato quindi necessità di strategie alternative che devono essere carico del servizio quindi si ricorre sempre all'RSA le strutture e le strutture e sanità dove appunto è una fortuna dove si sta lavorando moltissimo perché io conosco gli operatori sono veramente delle persone eccezionali ma chiaramente siccome è un'epidemia questa qua ormai i numeri sono altissimi bisognerà potenziare questa parte qua certo bene come sempre dico il tempo è tiranno e quindi dobbiamo interrompere qui questa nostra chiacchierata col dottor Giovanni Masec che però finora invito prossimamente a tornare da noi perché credo sia un argomento che interessa ahimè tantissime famiglie tantissime persone e che possiamo approfondire ancora da tanti punti di vista io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera un breve stacco pubblicitario e poi le notizie del nostro telegiornale a tutti una buona serata grazie buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti